È durissimo il commento del garante per i diritti dei detenuti della Toscana, Giuseppe Fanfani, dopo l'ultimo suicidio avvenuto all'interno del carcere di Sollicciano, a Firenze. Il detenuto marocchino è stato vittima di un sistema che non funziona e che non è in grado di offrire una protezione sociale alle persone recluse, dice al Corriere Fiorentino. L'uomo aveva chiesto di poter usufruire della detenzione domiciliare, ma non aveva una residenza ed anche i suoi genitori, che abitano a Firenze da anni, vivono in una casa occupata. Per questo il detenuto marocchino quarantenne è rimasto in carcere e lì si è tolto la vita. Lo staff del garante aveva incontrato il detenuto all'inizio del mese di ottobre. L'uomo aveva problemi di dipendenze e per questo aveva chiesto il trasferimento in una comunità, senza successo. Inoltre, aggiunge Fanfani, neppure il CERD fuori dal carcere poteva prenderlo in cura perché non aveva la residenza. Ecco perché questa è la prova che il sistema carcere e tutto quello che è correlato non funziona, dice il garante. Questo tipo di carcere ha regole bestiali che non aiutano le persone. La procura ha aperto un fascicolo per istigazione al suicidio, senza indagati. Inoltre, è stata disposta l'autopsia sul cadavere dell'uomo che sarà eseguita in queste ore. Gli anziani genitori dell'uomo chiedono di vedere la cella dove si è tolto la vita. Lo avevamo sentito pochi giorni prima, dice, stava male, minacciava il suicidio. Quel luogo, raccontano, era freddo e umido. Non doveva stare in carcere, ma in una comunità di recupero.